Difficilmente una professione può essere così variata come quella degli impiegati di commercio AFC. Con i suoi 21 rami offre una scelta che spazia tra banche e assicurazioni, pubbliche amministrazioni, aziende di servizi e commerciali, trasporti, imprese turistiche e gastronomiche, strutture sanitarie e sociali, oltre a tutti i settori industriali. Il contesto lavorativo varia notevolmente e di conseguenza ognuno dei 21 rami prevede compiti specifici. Tuttavia le attività fondamentali e i requisiti posti ai professionisti rimangono gli stessi per tutti i rami. Tra le attività fondamentali troviamo la valutazione delle informazioni ricevute, l'elaborazione, la messa a disposizione e l'archiviazione di dossier, contratti e documenti di ogni tipo. La comunicazione via e-mail, telefono o di persona, in almeno una lingua straniera. Questo oltre alla gestione di tutti i pagamenti, all'organizzazione di riunioni e conferenze, alla stesura di verbali e a molto altro ancora. In breve, in tutti i settori e rami, gli impiegati di commercio curano l'amministrazione, la gestione e l'organizzazione della loro azienda.